Che fai a Natale? Te lo dico Massimo, non ti aspettare discorsi intellettuali o cose simili. Figurati anzi sarà forse il primo Natale umano della mia vita. Saura! Ma quello chi è? È mio padre. Che cazzo fai nella vita? Mi occupo di microcredito. Ma vaffanboa! Mamma, ma veramente l'hai ammessa? Che me vuoi togliere pure l'ultimo schvago? Tanto hai capito che sta a casa, no? Sta di là, di là! Che bello, finalmente! Si comincia con la ghiandola dell'erba. Prego signorino, vieni. Il Natale è un brand allegro, non religioso. Sì, papà. Sai cosa sarebbe fantastico? È un'intrata spettacolare! Filippino che si butta dal terzo piano, è un vestito da Babbo Natale. Facciamo un minuto di silenzio, poi chi se la sente inizia con gli antipasti. Io sono incinta di lui! Fermatela, vi prego! A Natale la gente svarvola! Bastardo, merda! Andiamo in un po' Qua è una guerra, eh! Lì, lì, lì! Sarà un'ecatombe! Lì, lì, lì! Spurchio! Gianni! Questo cominciai io? Che meraviglioso Natale questo qui! Dai, eh! Siete pronti? Io mi metto a urlare fortissimo. Papà, perdonami, non resisto. Hai mangiato, hai giocato, mo te bevi pure la grappa colardo. Di a ori da, vorresti che stasera da un finisce mai, eh!